Tra le principali attività che svolgiamo qui all'Osservatorio Astronomico di Roma vi è la gestione della partnership italiana del grande telescopio binoculare, l'LBT, che è un telescopio gigante collocato sulle pendici del Mount Graham in Arizona. Il telescopio è uno strumento piuttosto peculiare perché in realtà si tratta di due telescopi in uno, infatti è formato da due telescopi con un diametro principale di 8,4 metri, mi riferisco al diametro dello specchio principale, montati sulla stessa montatura a mo' di binocolo. Questo ne fa un telescopio di grande potenza dal punto di vista osservativo e già nel passato, negli anni recenti, ha conseguito notevoli risultati scientifici. Basti citare l'osservazione del quasar più lontano al momento dell'osservazione, l'osservazione della controparte elettromagnetica dell'onda gravitazionale rivelata nel 2017 che ha dato origine e inizio all'astrofisica multimessaggero che è una rivoluzione nel campo dell'astrofisica. Per ultimo cito la scoperta e la caratterizzazione delle atmosfere planetarie di esopianeti, osservata alcuni anni fa con lo strumento di primo fuoco del grande telescopio binoculare che ha permesso di vedere a grandi linee le caratteristiche dell'atmosfera di un sistema planetario esterno al nostro sistema solare. È comparabile come capacità e come potenza osservativa ai telescopi spaziali. Questo a patto che si usi una tecnologia particolare che tra l'altro è un'invenzione tutta italiana, che è l'ottica adattiva. LBT ha un'ottica adattiva che è un sistema ottico che permette di correggere la turbolenza dell'atmosfera attraverso l'uso di specchi deformabili che vengono guidati da un computer e in questo modo il fronte d'onda luminoso che arriva sporcato dalla turbolenza viene corretto in modo da avere un fronte d'onda pulito che permette di osservare come se fossimo nello spazio. L'interferometria ottica è una tecnologia molto sofisticata che consiste sostanzialmente nel far interagire i due fasci luminosi che arrivano dai due specchi in maniera coerente. Coerente significa che le onde luminose vengono mantenute in fase. In questo modo è possibile riuscire a migliorare in maniera notevole quello che si chiama potere risolutivo del telescopio, ovvero la capacità di distinguere particolari vicini. Questo è fondamentale se si vogliono studiare certe classi di oggetti e in particolare la ricerca e la caratterizzazione dei pianeti esterni al sistema solare, i cosiddetti esopianeti. Lo studio degli esopianeti è una delle frontiere e sfide dell'astrofisica contemporanea. Significa usare il binocolone di cui abbiamo parlato prima, ma soprattutto qualcosa che mettiamo dietro al binocolone, strumenti dedicati, cosiddetti di seconda generazione, come questo che vedete qua, che è Chartvis, uno strumento dedicato alla fotografia di esopianeti. Significa, grazie alle ottiche adattive, poter identificare una luce debole quanto quella di un moscerino che gira intorno ad un lampione, ma dalla distanza di ben 400 km. Questo è l'esempio tipico. Pensate che la telecamera che sta qua, dimensioni piccolissime come vedete, una scatola di scarpe poco più, che andrà su un telescopio delle dimensioni faraoniche, ha la capacità di fare mille fotogrammi al secondo con uno sbaglio di un singolo fotone. Questo permette di identificare esopianeti da un punto di vista proprio ottico e nel prossimo futuro, grazie ai grandi telescopi della generazione dei cosiddetti giganti, telescopi dai 30 o 40 metri di apertura, avremo la possibilità anche di caratterizzare nei dettagli gli spettri delle atmosfere di questi esopianeti, per esempio cercare la presenza dell'acqua, dell'ossigeno, della nitrite carbonica, quelli che noi chiamiamo dei tracciatori biologici. Esiste proprio in questo campo una nuova scienza chiamata esobiologia che cerca di combinare le competenze dell'astrofisica con quelle della biologia per capire se la vita può essere presente anche in forme abbastanza diverse da come la immaginiamo noi su questi mondi lontani e molto peculiari. La ricerca scientifica e tecnologica trae l'infa vitale dalle collaborazioni internazionali e il nostro binocolone non fa eccezione. LBT è una collaborazione di quattro partner, l'Università dell'Arizona che è il capofila e il padrone di casa, la comunità nazionale italiana che partecipa in toto, quindi come comunità nazionale nel suo complesso, un consorzio tedesco formato da alcuni istituti guidati dal Max Planck Institute e un ulteriore consorzio di università americane guidate dall'Ohio State University. Ognuno di questi quattro partner possiede la corporation per il 25% e quindi ne partecipa negli onori e negli oneri, per cui ha il 25% di spese e il 25% di sfruttamento scientifico.